Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video per la serie Affetti Brevi in 30 Giorni. Quest'oggi parleremo delle spese di pulizia, o più nello specifico, gli errori da evitare. Uno dei temi più ricorrenti quando si vive nel mondo degli host è quello della pulizia. Partiamo dal presupposto che la pulizia non è un vero e proprio costo per noi, perché in realtà, se andiamo a vedere, è una voce che pagano i clienti. Ad esempio, in questo screenshot che vi faccio vedere, notate che una persona ha pagato un costo per notte è la tassa di soggiorno e i costi di pulizia. E quei costi di pulizia che noi impostiamo, nella maggior parte delle casistiche, sono gli stessi costi che poi andiamo a pagare o addirittura di più. Ciò significa che se ad esempio io chiedo 100€ di pulizia, può essere che o pago quelle pulizie effettivamente 100€, o addirittura le pago 80€ e vado anche a marginare 20€ sulle pulizie. Quindi le pulizie, partiamo dal presupposto che non sono un vero e proprio costo per noi, ma ha un giroconto, passatemi il termine, quindi me li paga l'ospite a me e poi io le pago all'impresa di pulizia. Esistono delle casistiche dove l'host coincide col proprietario dell'impresa di pulizie, tantissimi studenti B&B Academy della nostra community hanno aperto poi delle loro imprese di pulizie, o può essere che alcuni si facciano le pulizie in autonomia, anche se non è una cosa che io condivido. Persone che tendono a farsi le pulizie da sé, perché o hanno difficoltà a trovare persone, ma la difficoltà deriva in realtà dal non sapere come cercarle, soprattutto dove cercarle, un tema che dentro B&B Academy spieghiamo per filo e per segno, oltre a raccomandarvi noi stessi delle imprese di pulizia nella vostra zona, oppure dal fatto che vogliono guadagnare di più. Quindi siccome io dovrei pagare 50€ di spese di pulizia, anche se sono pagati dall'ospite, preferisco intascarmi io ai 50€ e non pagare un'impresa di pulizie. E io non sono d'accordo perché significa che finisci a farlo schiavo. Cioè il bello di questo lavoro è che puoi farlo ad investimento zero, avendo un sacco di tempo libero, senza sforzi fisici, automatizzando tutto, ma se poi finisci a fare lo spazzino o la spazzina dentro casa, che va benissimo, non c'è nulla di male nel fare questo tipo di lavoro, è un lavoro normalissimo, però se entri in questo business non è perché poi finisci a pulire le tue case. Quindi in primis lo reputo, diciamo, poco appagante e poco sensato se il motivo per il quale sei entrato in questo business o sei entrato in questo business è guadagnare. Non è pulendo la casa che diventerai ricco o ricca. Ma in secondo luogo è anche proprio il fatto che se pulisci non hai il tempo di fare cose molto più importanti, come ad esempio acquisire altri mobili. Quindi il vero guadagno maggiore ce l'hai se il tempo che dedicheresti alle pulizie lo dedichi a trovare nuove case, a scalare questo business e a delegare tutto quanto. Ma torniamo agli errori da evitare. È un errore pulire in prima persona, ma è un errore anche non trovare l'impresa di pulizie. Ed è un errore imputabile solo ed esclusivamente a voi, perché non avete le competenze e il mindset per riuscire a delegare. Avete paura magari che quella persona non pulisca bene e quindi preferite fare da voi. Avete paura che quell'impresa non pulisca bene e allora andate a controllare dopo ogni singolo check out. Attenzione, è importantissimo controllare che tutto finisce, perché ovviamente se riceviamo una recensione negativa, soprattutto lato pulizie, può essere abbastanza problematico. Ma come faccio io a gestire oltre 100 immobili lato pulizie? Ho cercato di automatizzare, nei limiti del possibile, ovviamente anche queste operazioni. Ad esempio, fornendo all'impresa di pulizia una checklist, che mi devono compilare al termine di ogni pulizia, firmare e inviare su WhatsApp. Questo funge un po' da autodichiarazione, ovvero sì. Io sto dichiarando che davvero ho controllato che nel letto non ci siano capelli, davvero ho controllato che il water sia pulito, davvero ho controllato che l'immondizia sia sporca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sto dichiarando, firmando il tutto attraverso questa checklist e quindi sicuramente, siccome non voglio dichiarare il falso, effettivamente controllerò che ciò sia avvenuto. Io, inteso come io persona che sto pulendo, mi assicurerò di aver controllato. In secondo luogo puoi inserire delle penali, ovvero ogni qualvolta fai un errore, mi fai lo sconto in fattura di 25 euro. Vi assicuro che quando ci sono i soldi di mezzo, le persone smettono di fare errori. E questa può essere una metodologia. E un'altra, un'altra chicca che vi do ovviamente dentro Bambi Academy, trattiamo questo tema per ore e ore e ore e ore, è quello di farvi fare un video da ogni impresa di pulizie. Qua ad esempio vi faccio vedere adesso un video che mi ha mandato l'impresa di pulizie. Perché anche qui il video è una sorta di dichiarazione. Se io so che non ho pulito un qualcosa, ho paura a filmarlo, no? Perché il filmare, il fatto che non abbia pulito magari il water, significa dichiarare la mia colpevolezza. Invece se tu non hai nulla da nascondere, non hai nessun problema a farmi un video dove mi fai vedere nel dettaglio la casa. Poi diciamocelo chiaramente, io arrivato al mio livello, non guardo questi video, lo fanno delle persone che lavorano per me, ma da un certo punto di vista potreste anche non farlo voi. Nel senso, potete dire all'impresa di pulizia che deve fare il video. Non significa che voi dovete guardare veramente ogni singolo video. Però è una sorta di prevenzione. L'impresa non sa quali video voi vedrete e se li vedrete. Voi chiedete di farlo per ogni singolo check-out, ok? Dopodiché vedrete voi. Però intanto il fatto che loro debbano fare questi tipo di filmini, passatemi il termine, fa sì che loro si responsabilizzino molto e se poi alleghiamo le penali, se poi alleghiamo la checklist, diventa pressoché impossibile cannare. Poi è ovvio che una dimenticanza, l'essersi dimenticato un sacco dell'immondizia, va bene, può capitare anche ai migliori, soprattutto sulle grosse quantità. Però errori grossolani e molto gravi, così facendo riusciamo a estirparli dal nostro business. Però, come dicevamo, il problema principale di norma è l'impossibilità al delegare. E qui c'è la differenza, secondo me, tra host, quindi persona che gestisce gli immobili, è imprenditore. Noi dentro B&B Academy non creiamo solo degli host che guadagnino un sacco di soldi, ma creiamo dei veri e propri imprenditori. Infatti, ad esempio, dentro il corso, che dura più di 70 ore, abbiamo interi moduli legati al mindset, all'imprenditoria, al come delegare, al come gestire, al come controllare il tutto, perché potete anche guadagnare 10.000 euro al mese con gli affitti brevi, ma se dopo siete schiavi del vostro stesso lavoro o siete limitati, non riuscite a scalare, è un peccato. E alla lunga questa cosa potrebbe anche distruggervi. mentalmente e fisicamente. Ma non è un problema se siete dentro la community, perché è un tema che abbiamo trattato per filo e per segno e che portiamo anche sotto forma di aggiornamenti gratuiti con una certa costanza nel tempo. Infatti, ogni volta che scopriamo nuove metodologie, nuove tecniche, nuovi strumenti, nuovi modi di automatizzare, non ci inventiamo il corso 2.0 o vi vendiamo il corso segreto, no, aggiorniamo gratuitamente perché ci teniamo a che la nostra sia una community profittevole. Infatti poi B&B Academy ha vinto anche un premio che vedete qui per i risultati ottenuti. Abbiamo vinto anche un altro premio, il premio Le Fonti, per esserci contraddistinti a livello di qualità. Siamo l'unico percorso certificato dal Teredu, dato affitti brevi, e sono stato anche inserito nella lista degli imprenditori più promettenti d'Italia sotto i 30 anni da parte di Forbes, proprio grazie a B&B Academy. Quindi sono sicuro al 100% di avere tra le mani il prodotto numero uno in Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi. E probabilmente anche al di fuori dell'Europa. Ma oltre a questo, tocchiamo un tema che ho anticipato prima, ovvero io, Ludovico, ma non solo io, anche molte persone della nostra community, non gestisco più in prima persona determinati temi. Perché? Perché io ormai lavoro a livelli manageriali, quindi io gestisco le persone che a loro volta poi gestiscono queste questioni qua. e si apre un altro, un altro, come dire, argomento importante, che è quello del saper formare dei collaboratori. Ora, se state partendo, secondo me, fino a 10 case, talvolta anche i 15, insomma 10 case in media, riuscite a farvele da sole. Ok? Non avete bisogno di nessun altro. Dopodiché, una certa, diciamo, raggiunto un certo livello, volete assumere qualcuno che poi può anche essere un collaboratore a partita IVA. volete farlo perché questo vi permette di vivere più serenamente, cioè vi dico sempre, no? Ad esempio, a mia madre, stai guadagnando talmente tanti soldi che potresti delegare ulteriormente e praticamente non fare più niente. Però a lei gli piace, in realtà, ogni tanto andare a controllare le case e quindi continua a farlo. Però non siate avidi. Cioè, se state guadagnando 10.000 euro al mese per dire investitene anche 1.500, 2.000 per delegare perché grazie a quel delegare potete o vivere una vita veramente senza fare niente oppure scalare ancora di più il business. Quindi non concentrarvi più sul si è rotta la serratura, l'ospite si è dimenticato la valigia, ma concentrarvi sul vendo la mia azienda un milione di euro, concentrarvi sul apro una sede fisica oppure mi espando in un'altra città che sono cose che sono un moltiplicatore molto più ampio. quindi ecco perché è importante delegare e parte del delegare è legato alle pulizie. Un errore molto grande è quello di non delegare le pulizie e di andare lì a controllare con la lente di ingrandimento ogni singolo immobile. Cioè, immaginatevi anche una catena alberghiera, no? Hilton, che conoscono tutti quanti, ma secondo voi il signor Hilton andava a controllare ogni singola camera d'hotel con la lente di ingrandimento? No, è iniziato a delegare, è iniziato a fidarsi ed è diventato una delle catene alberghiere più grossi al mondo. Jeff Bezos controllava ogni singolo pacco che usciva dagli stabilimenti di Amazon? Ovviamente no, ha iniziato a delegare ed è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Dovete iniziare a delegare e a fidarvi delle persone e dovete rendere soprattutto le pulizie, così come tanti altri aspetti del business che spieghiamo dentro B&B Academy, le pulizie sistematiche e automatiche che ancora una volta vi ricordo non significa bassa qualità, scarse, valutazioni, eccetera, 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 assolutamente niente di più sbagliato. Scommetto che il mio sistema di pulizie completamente automatizzato è molto più efficiente del 99% degli host là fuori che magari vanno anche in prima persona a controllare gli immobili. Però dall'altra parte voglio anche rassicurare coloro che magari come dire, hanno il semplice obiettivo di fare 1000, 2000, 3000 euro extra al mese cioè tutti questi discorsi incredibili che sto facendo in realtà poi se i tuoi obiettivi sono di fare appunto dai 1000 e 3000 euro al mese non c'è bisogno di nulla di tutto ciò cioè sì, puoi comunque farti compilare la checklist puoi comunque automatizzare questo discorso puoi comunque farti inviare dei video però non dovrai mai assumere nessuno non dovrai creare team di pulizie eccetera, eccetera, eccetera che sono al contrario cose che riguardano chi vuole crearsi diciamo una certa struttura di un certo livello. e un altro errore da non commettere è quello di assumere persone lato pulizie questa è una cosa non so perché forse tutta italiana io sono più international ma c'è l'ossessione di devo assumere devo assumere chi devi assumere? cosa devi assumere? assumere un dipendente ha dei costi esorbitanti se poi si fa male rimane incinta c'ha la febbre la diarrea qualsiasi cosa sei nella e devi comunque pagare qualcun altro quindi il mio consiglio è di lavorare ovviamente sempre e solo con persone che rilasciano fattura perché non lavoriamo in nero e non sarebbe serio non sarebbe scalabile e bisogna fare tutto a regola d'arte qui non siamo per le cose illegali se c'è il modo di risparmiare ben venga ma sempre in maniera legale quindi puoi lavorare con dei professionisti quindi singoli che hanno una partita IVA forfettaria ordinaria senza nessun tipo di problema oppure con imprese di pulizia dove se la persona si è fatta male non è colpa tua e non riguarda te soprattutto starà l'impresa di pulizia trovare poi il sostituto mandarti qualcun altro e spesso sono poi aziende organizzate quindi questa cosa non è un problema e vi do una piccola chicca di cui abbiamo parlato in un altro video ma se non l'avete visto ve lo diciamo ve lo spoilerò qui sappiate che se le spese di pulizia sono opportunamente fatturate anche come persona fisica potete detrarvi il costo ciò significa che se avete incassato 3000 euro e avete delle fatture per 500 euro di pulizia in un mese ad esempio beh voi pagherete le tasse anche se come persona fisica solo su 2500 euro perché i 500 euro di spese di pulizia opportunamente fatturati da una persona o un'azienda compartita IVA non vengono conteggiati nei calcoli della cedolare secca e quindi non fate l'errore di pagare visto che è un video sugli errori non fate l'errore di pagare le tasse anche sulle spese di pulizia se opportunamente fatturate e dico se opportunamente fatturato ovviamente perché uno degli errori ovviamente che abbiamo spiegato nel video qualora non sia chiaro è quello di assumere persone in nero che non è assolutamente consigliato perché se si fa male succede qualcosa nei casi ci andate voi è poco professionale e anche gli standard qualitativi di una persona che lo fa in nero non possono essere quelli magari di un'impresa di pulizia con anche degli standard e delle certificazioni e poi diciamocelo chiaramente se uno è un professionista nel settore delle pulizie come minimo a una partita IVA profettaria ed infine un altro errore di cui voglio parlare oggi e poi ne abbiamo analizzati tantissimi altri in B&B Academy e ti spiego alla fine del video come puoi accedervi è quello di impostare dei costi di pulizia creativi nel senso ma oggi mi sento di mettere 100 euro di pulizia no non funziona così oppure ah l'impresa mi ha chiesto 150 quindi metto 150 assolutamente no il costo di pulizia che noi dobbiamo impostare deve essere concorrenziale ed in linea con quello che fanno i nostri competitor perché se i nostri competitor chiedono 70 euro per un bilocale e tu me ne chiedi 100 per un bilocale sei fuori mercato di 30 euro e nessuno prenoterà mai un immobile dove i costi di pulizia costano il 30% in più rispetto agli altri non ha senso non lo faresti nemmeno tu tu non soggiorneresti mai in un mio B&B se io ti chiedo 30 euro in più di pulizia rispetto agli altri ti chiederesti ma perché prenoto da quell'altro e lo stesso deve valere per voi quindi il prezzo che fate non deve essere in base alla vostra sensazione a quanto volete marginarci o a quello che vi chiede l'impresa di pulizia ma deve essere tarato su quello che fanno i vostri competitor come si scopre che prezzo fanno i nostri competitor con una ricerca di mercato che ovviamente andiamo a fare sfruttando Bedly Go che è il software numero uno per la ricerca di mercato e non solo in ambito affitti brevi per darvi un range un costo di pulizia può andare dai 30 a 40 euro per un monolocale e ovviamente questo costo include anche magari la biancheria a noleggio i saponi liquidi consumabili eccetera eccetera sino alle centinaia o migliaia di euro per delle ville mastodontiche qui ti faccio vedere uno screenshot ad esempio di una ricerca di mercato fatta con Bedly Go che dopo aver inserito gli opportuni filtri mi fa capire che in zona questo è il prezzo medio che chiedono i miei competitor e questo è il numero di annunci che chiedono un costo di pulizia perché alcuni annunci non lo chiedono io preferisco chiederlo perché secondo me dà un senso di maggior pulizia al cliente cioè il ragionamento che faccio io è questo annuncio non mi chiede dei soldi per la pulizia magari è poco pulito questo mi chiede dei soldi per la pulizia e quindi magari si affida ad un'impresa di pulizia professionale e quindi magari più pulito rispetto a quell'altro quindi se vuoi azzeccare al 100% il costo di pulizia per il tuo B&B per le tue strutture ricettive devi utilizzare Badly Go ma poi non vi preoccupate che insomma l'investimento su questo software viene ripagato ampiamente dalle mille altre funzionalità del software se non avete visto i video su Badly Go vi lascio qualche contenuto qua in descrizione siamo giunti al termine del video questi sono solo alcuni dei consigli fondamentali per avere successo in questo business con gli errori da non fare in ambito pulizie e rimanendo in tema di link che vi lascio in descrizione vi do ben due regali una consulenza gratuita con il nostro team per capire se questo business fa il caso vostro se possiamo aiutarvi in qualche modo ed un ebook gratuito dove anche lì vi diamo degli insights per partire e scalare il business di affitti brevi che è il miglior business online che voi possiate fare in quest'anno qui per questo video è tutto da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video ciao